bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy allora l'altra volta eravamo stati sconfitti in questa missione adesso voglio riprovarci a farlo mettendo altri personaggi ok ok Grazie. 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 Ok, credo di aver diviso bene le squadre. Andiamo. Grazie. Grazie a tutti. 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 and why don't come on then no slaggin' off thank you and where shall we strike this ends here your orders victory is within reach this is the end this battle is ours try this I'll show you what I can do it's not over yet my face allow me let me show you what I've learned let me help come at me come at me push on through Beh, ormai abbiamo finito, ci manca solo uno da ammazzare, però devo prendere prima l'oggetto. Grazie per la visione! 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 muna e muna tutto e si lanciano i coltelli pudo tempesta ecco una tempesta tutte e due tempesta che valore da far fuori questi due prima vediamo dove stanno e uno qua e uno qua allora vediamo che ci consiglia ci consigliano questi due ah 7 ne abbiamo di possibilità annazza ne abbiamo pochi di persona ma non posso mettere tutte ste unità consigliate allora lui si posso pure mi servono quelli che curano senti tolgo sti due allora dai e lei che cura un'altra che cura ce l'ho basta ma devo mettere un maghetto non conviene l'arciera che li blocco no conviene il mago dai proviamo così allora così sono troppo vicini dobbiamo mettere uno di fronte all'altro ok vado di qua ma che cura di no ok no 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 Ma lo mettono proprio di schiena. Ma io devo attaccare i maghi. Ah l'ho ucciso? Ma sono proprio cattiva? Allora... Così dai. E cazzo lo sapevo che me lo faceva. Bastardo. Ah quindi dobbiamo stare attendo a non cadira. E ci buttano fuori, ho capito. Aia. Bastardi. Ok l'ho capito a scopo ritardato ma... Meglio tardi che mai. Ehm... Ehm... ... 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 Come sei sicuramente capace, signora Federica. La voce di Lord Simon... Alas, la nostra casa non è come la sua volta. C'è un motivo di dare la sua honore? Il mio padre, sicuramente, ha avuto una mano in orchestrati... Ah, i miei amici. Mi raccomando. Ti facevi una scelta difficile. Una che non mi piacere. Hai deciso? Questo era il tuo plan da l'inizio, non è? Plan? Sì, abbiamo fatto quello che hai chiesto, e abbiamo portato Sorcelli's indiscretioni all'inizio. Hai saputo. Lest che non ti capiscono, non sei il nobile che pensi di essere. Voi sono i vulti, che fanno la scelta del corpo di Sorcelli. Hai qualche nervo. Parlo da esperienza, quando dicono che il titolo di santo non è ripieno. Preparato? Non è vero che hai chiesto di rompere i tuoi fettori, per prendere la mano e la mano. ma non siamo pronti a spargere sangue non ti preoccupare in his time lord simone protected the roselle who fled hyzant and the village they established within the woolfort domain 30 years have passed since then the hierophant uses the illegal salt trade incident as leverage to demand those roselle be ma perché dove sta scritto non c'è la votazione io voglio la votazione lord saranoa i believe it may be in our best interest otting but they fought so hard to escape hyzant they would never agree to return it would be a show of good faith to the saintly seven and secure if the situation calls for force well we must be prepared to borrow ma è normale che quella sera andata andata avvisarmi ma va a vedere che schifo fanno no 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 ceranoa there's nothing to forgive nazально not knowing would make my decision easier ceranoa ceranoa from house ma Grazie a tutti. 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 , . a tutti. a tutti. a tutti.